Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di GamerServe Io sono Kira e oggi vedo Maverick che gira con la barca Va bene Oh la barca it's been a long day Si è rotta? No, sono sceso per il sbaglio Barca arrivo Vabbè non abbiamo parole Comunque siamo nuovamente sulla CTM di Minecraft Waterblock 4 Allora, ciao Ciao Come in ogni episodio io faccio dei cambiamenti perché gioco off camera Voi potete guardare un episodio per guardare quello dopo Tanto non ci capite una sega, manco io ci sto capendo niente E infatti oggi spiegherò a voi come spiegherò a Maverick Esatto, spieghi a me Ieri abbiamo già presentati i piccioni I piccioni si, li abbiamo già presentati Che però uno ha cambiato il nome Lui era, se vi ricordate, quello di Maverick Che si chiamava il mio uccello Ora si chiama il mio grosso uccello Giusto per Allora, come prima cosa che si vede subito Ho leggermente modificato la zona Vai 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 parla parla Però ascoltami che qua Ho messo due lettini colorati Colorosa per me e colorosso per Maverick E ci ho messo Vabbè, colorosa per Maverick e colorosso per me E ci ho messo a fianco ad ognuno una chest In questa chest tu ci puoi mettere le tue cose Ad esempio io qua ci ho messo la mia armatura perché Ma io voglio una ender chest Non mi serviva quando l'ho usato Ecco qua, ok Poi ho messo un bel quadretto di Donkey Kong Che rappresenta molto comunque l'ambito videoludico Di cui noi facciamo parte Poi ho spostato leggermente qua le cose L'ho reso un pochino più grande Ho modificato di nuovo le chest Le ho aggiunte E ho fatto una chest per ogni cosa Quindi qua ci sono solo semini Solo patate Solo carote E via dicendo Ok? E qua le test dei vari boss Questa qua forse non si capisce che cos'è Perché c'è una boccetta È le cose con i libri incantati E le pozioni Questa qua Quelle che troviamo in giro Ora No Mi sono salvato Ok Una cosa importante Che ho fatto Vieni a vedere E qua la chest Aspetta Aspetta The Florislava Ma sei morta Sì morta Scusa non ci pensavo Una cosa importante In questo momento Non vedete spawnare mob Perché L'ho messo un attimo In pacifica Più che altro Perché così almeno Vi spiego le cose Visto che siamo partiti di notte Vi spiego le cose Con un po' più calma Senza che Phantom o roba del genere Ci venga incontro Allora Una cosa importante Che ho fatto È la chest mission Nella chest mission Come potete vedere Metteremo all'interno Tutte quelle cose Che mano a mano Andremo a fare Che poi ci serviranno Per le missioni Quindi Sì maveriche Quindi le lasciamo lì E poi successivamente Le utilizzeremo Per le missioni Ora Non mi ricordo Quale dei due è Non è questo Ok Allora Togliti maveriche Allora poi Un'altra cosa importante È che ho fatto Questo libro Vieni qua Ho fatto questo libro Sì brava brava Hai fatto un libro Come fanno tutti gli youtuber Un libro di merda Bravissima Ti sei aggiunta Al gruppo Degli youtuber falliti Porca troia Quanti conigli Ho fatto questo libro Perché in questo libro Come potete vedere È il libro delle missioni Qui dentro Ho scritto Tutte le cose Che ci servono Tutti i materiali Che ci servono Per fare quei blocchetti Di agraria Dei mob E degli animali Che ci servono Per continuare le missioni Perché Visto che ogni volta Noi non ci ricordavamo Cosa ci serviva Dovamo andare Nel Lì da lab Poi dalle missioni Vedere cosa ci serviva E tornare indietro Perdevamo un sacco di tempo Almeno in questo modo Lo abbiamo Lo dimenseremo Spero Un'altra cosa Che ho scritto Prima di cancellare Un'altra cosa Che ho scritto È per sbloccare i boss Ossia Ho scritto Tutti i boss Che ci sono Nel monumento Ora ti faccio vedere il libro Nel loro livello Di difficoltà Li ho messi in ordine Così possiamo sapere Quale andare ad affrontare Il modo in cui Possono essere Spawnati E anche per aprire La stanza Nell'eventualità Che non sia già aperta Di per sé Capito? Cioè praticamente Lore ti potrebbe dare L'autore della mappa Ti potrebbe dare La possibilità Di mettere il tuo libro Proprio nella mappa Così tutti quelli che giocano Ci hanno già il tuo libro Fatto No è un po' scritto male Io l'ho scritto giusto così Per farmi capire Per capirmi io Va bene Allora facciamo così Senti tu lassù Che ci stai guardando Facciamo che per centomila euro Ti diamo questo libro Guardi il sole dritto negli occhi A centomila Ok quindi Oggi Senti vanno bene anche Cinque centesimi Esatto Accettiamo comunque Allora oggi Pensavo di vedere Qualche missione Che è più semplice Da poter portare avanti Nell'agrario Nei mob O nei simali Infatti te lo volevo dire Anche io E poi andremo A sconfiggere Un boss Ma Prima di tutto Prima di iniziare Qualunque cosa Io vi voglio ricordare Che qua sopra Metto sempre La playlist Di tutti i video Per quanto riguarda Questa serie Quindi se ne siete persi Qualcuno Andatevi a vedere Iscrivetevi al canale Perché portiamo Un sacco di novità E soprattutto Ogni giorno Alle 15 Noi portiamo Un nuovo video Quindi non perdetevelo Ora possiamo andare avanti Tieni il libro Guardalo tu No no Tieni il libro tu Ok guardo io Poi però te lo faccio vedere Allora No Una che possiamo fare 32 patate E 8 patate velenate Ok ma le patate velenate Non abbiamo trovato mai Manco mezza Non è vero Ah Dove le trovate Se patate velenate Ma le abbiamo sempre trovate Ne avevamo sette Nel scorso gameplay Non ci ho fatto caso Ok Prese Ok Poi 4 meloni interi E 32 fette Questo non possiamo farlo Perché non abbiamo I 4 meloni interi 32 zucche Perché per fare i meloni interi Va bene Sì me lo ricordo 32 zucche Aspetta che qui Il reparto Reparto zucche Reparto zucche E qua dai meloni Lo vero e parto giù Dalle angurie Queste sono angurie Vabbè Le angurie e zucche Dimmi che non era Il 32 angurie No 32 zucche Poi Allora 64 semi di cacao E 64 biscotti 64 semi di cacao No Queste sono fave di cacao Va bene Eh sì È uguale Soltanto che Non so come si facciano i biscotti Ho messo un po' di cacao A crescere Aspetta aspetta Mi pareva di averli visti I biscotti Qua Nella Nel Biscotto Allora ci vuole Un grano Un grano E un cacao Il problema è che Se ce ne servono già 64 Andiamo a prendere un po' di cacao Dai Dove Dove ce l'abbiamo Un cacao Laggiù L'ho piantato L'ho piantato negli alberi da giungla Ma ci hai mai fatto caso Che cacao Sembra quasi Un giocatore brasiliano Io Sui cacao Cacao Dribla Cacao Avanza Cacao In effetti no Non ci ho mai pensato Goal di cacao Ok Grazie 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 Dato tutto? Ok Teoricamente adesso potresti fare 64 Intanto tu che fai Io guardo qua Allora la carota Carota d'oro Non l'abbiamo fatta Come fai ricordati Quelle abbiamo fatto? Perché io non me le ricordo Ho tanto Maletto Cosa vuoi? Aspetta no Aspetta 63 biscotti No 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 Tieni 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 Guarda nel tuo inventario Perché hai fatto così tanti biscotti? Perché ce ne dava otto a botta Io non ho letto Invece che darcene uno ce ne dava otto a botta Ma non potevi farne un po' meno Ma porca troia Vabbè ma i biscotti si mangiano Quanto è sprecato? Vabbè sì almeno ci riportiamo in battaglia Esatto Allora aspetta Allora No dicevo come fai a ricordarti Quale abbiamo fatto e quelle no? Perché sono andata a vederlo E ogni volta elimino quello che io ho fatto Ok Quello delle patate Fatto Anzi sai cosa ti dico? Tieni un po' Tieni questo libro Elimina quello che sta facendo Non sono capace di usare il libro io Non so come si faccia E scrivere normalmente Poi dopo scrivi fatto Poi Allora Allora Aspetta aspetta 32 patate Più 8 avvelenate E l'abbiamo fatto Quindi canciarmi Allora aspetta che lo cancello Poi 4 meloni No 32 zucche E 8 gioco lantern Fatto Allora aspetta che cancello anche il 3 Potevi lasciare perdere i numeri Perché adesso sono tu Vabbè 64 semi di caccao 64 biscotti Fatto E 4 alghe Con 4 blocchi Fatto Quindi qui c'è rimasto solo il melone Per l'agraria E melone No col cazzo Ci manca C'è anche l'altra pagina Eh Ora poi Quello dei E qua E abbiamo 32 funghi 32 funghi 32 verruche Vai negli animali E ho fatto il chicken 128 carne marcia No no Animali Animali Mob Che non è mob È animali E che cazzo ne so io Ma lo sto dicendo 32 polli 64 più Fatto Missioni No monument No monument Chi Eh vaffanculo L'unico che non so andare Allora Yellow Green Potito Dov'è la roba Qua Potito Eccolo qua Pumpkin Sugar Can L'abbiamo fatto Cocoa Qui c'è Cocoa 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 Del cazzo Che se magari Lo andiamo a vedere Come si fa È Un po' Complicato Te l'ho detto Ci conviene Fare una cazzo Di farm Del Di pesca Tanto vado a mettere Chicken Ciao Lore Chorus Netherworld Brown Mushroom E melon Poi abbiamo finito Questa parte Allora Ti dico un attimo Dei boss Il boss Subito dopo Il mostro di Nettuno Quello che abbiamo fatto noi A livello 4 su 10 È Killer Che per aprirlo Servono 16 smeraldi E Una carota d'oro No 16 smeraldi Ok I smeraldi Dove Me li Nelle Eh aspetta Ne avevo trovati alcuni Io ma non so Quanti ne avevo trovati Non credo 16 Eh se non ne abbiamo trovati 16 Tu mentre vai a fare agraria Io vado a A fare il minatore 3 ne abbiamo trovati Puttana troia Ok io ho minato Per tantissimo Tantissimo Ma Come potete vedere Non ho trovato un cacchio di smeraldi In compenso C'è laggiù La zona Delle Dei Degli orseti polari Che Io vedo Non ci siamo ancora andati Non ci siamo ancora andati Ci vado un attimo io adesso Perché c'è una cesta No 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 Ci vengo anch'io Vieni c'è anche tu Perché c'è una cesta Aspettami Ti sto aspettando qua in cima Guarda mi vedi Che voglio vedere Ma rimanci C'è qualche smeraldo Uno Ah Vabbè meglio Mi giochi niente Aspetta 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 Guarda la sinistra È luminoso là Io non vedo un cazzo In acqua In acqua Ah laggiù in fondo Sì Ora ci andiamo Vai 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 Ora ci andiamo Ora ci andiamo Aspetta Prima arriviamo qua Dare un'occhietta veloce C'è una cassa Non qua Nell'altro 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 Gira 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 In quello più piccolino Giro giro Dove ci sono le volpi In questo più piccolino In questo più piccolino C'è una cassa C'è anche un pesce Grazie volpi Pesce Quanto quanto ce n'è Pesce Vai vai Vicinati alla cassa C'è uno smeraldo Un sacco di carta La conchia del nautilus Sul cuore del mare Prendi tutto Vado Vabbè Se dovesse servire Io non ci Arrivo Barbagiani Barbagiani Ma non è più Luminoso Qua è luminoso Qua c'è un Qua ci sono dei citrioli di mare Qua c'è uno smeraldo Cazzo Non ho abbastanza spazio Faccio io Faccio io Prendi Dove vedi Qua dentro Qua dentro La cesta è questa qua Ma non c'è smeraldo C'è del pesce Lo smeraldo l'ho preso io Ma c'erano le conchie del nautilus Dove andare un attimo su Perché se no muoio Uh cazzo Ok Aiuto Come si torna su rapidamente Con shift penso C'ho una bollicina Vieni vieni Dobbiamo farci un coso Per respirare più a lungo Ora c'è un altro posto Qua sotto Aspetta Voglio ritornare Eh lo so C'è più di posto Ma dobbiamo farci le cose Per respirare sott'acqua Eh lo so Ok qua ci sono C'è un'altra cesta Cacchio Non c'è Prendi Quello del mare tu Il cuore del mare Sì il resto non ci interessa Ok no infatti No 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 Le alghe non ci interessa Qua forse Io sto qui sotto Sto perdendo vita Sto perdendo vita Sto perdendo vita Un attimo Arrivo Arrivo Torniamo su Torniamo su C'è un buco sotterraneo C'è un buco? C'è un buco segreto Buona buona C'è una casa sotterranea Quindi mi sa che ci respiriamo anche lì Ok 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 Pronto? Vieni giù come Io sto aggiornando E la pepina Uovo di tartaruga Patati Uh l'uovo di tartaruga ci serve Palle di slime Sì ma io non ho più spazio Diamanti Oro E neanche io Aspetta metto la Torniamo un attimo a casa? Aspetta metto la pietra E Prendo tutta sta roba qua No torniamo a casa Poi la prendiamo tutta dopo Vabbè no intanto la prendo Finché ho spazio la prendo Intanto la pietra chi se ne frega Ok prendo solo i cistrioli di mare Per questa roba qua l'abbiamo già Erba acquatica Forse potrebbe servirci La prendo Le anche no? Qui ci sono le uova di tartaruga Le prendo subito Io ho le figure per standard Volto di creeper Fiore Logo Uh che carini Uovo di tartaruga ci possono servire Ma non possiamo prenderli Niente Vabbè io me ne vado Poi vengo a recuperare tutto Scrutto Ma lascio giusto i Ma no ma io non voglio lasciare niente Voglio prendere tutto Voglio un attimo Voglio un attimo Ma chi se ne frega Intanto prendo le cose principali Ramses Ramses Cinque smeraldo Una testa di Ramses Neptune Dodici Vabbè Nettuno Lasciamolo perdere Però Ramses Cinque smeraldi Quindi devo andare di sconfiggere Ramses Vabbè ma adesso Siamo guardati ancora di più Di quando l'abbiamo sconfiggere Quindi andiamo a sconfiggere Ramses Andiamo un attimino a sconfiggere Ramses Per farci gli smeraldi Oppure scusami Adesso Ah dove Sì ci servono gli smeraldi Per fare il boss giusto Per fare il boss a livello 4 Che è questo Qua Questo qua È wizard Eh no scusate È killer E allora andiamo da Ramses Andiamo da Ramses Però aspetta Per Ramses Eh però Ci vuole uno smeraldi Ci vuole uno smeraldo E lui quanto ce ne dà Non le previ Cinque Lui ce ne dà cinque Quindi Ah ne quante ce ne servono Dieci Sedici Dieci Perché ne abbiamo Scusate Perché ne abbiamo sei Ma dobbiamo sprecarli Per Per spawnarlo Che ballo Quindi dobbiamo sconfiggere Almeno tre volte Tre volte Dammi un altro scudo Stronzo Vaffanculo Scusami Niente niente Non dicevate Ok Andato Lo possiamo già fare rispawnare Dobbiamo tornare a casa No 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 Fallo rispawnare Si può Si può Cazzo Cazzo Non mi interessa Anche se sono i trucchi Scusate Non dovrei usarli Ma se no Mi ritipizza Maverick Da me Dai che è una qua Dai che è una qua Eh io A me sta Devo sconfiggere il suo stronzo Perché non ho armatura Ok bravissimo Dov'è la mia armatura? È tutta la dietro Tutta la dietro Valla a prendere Tienilo in acqua Tienilo in acqua Io lo spingo da una parte E tu dall'altra Vaffanculo Torna giù Che è che mi sta colpendo? Morto È lui Con il lag Il libro e penna Ce l'ho ancora io Ah Ah Cacchio è vero Il mio libro e penna Due e tre Se li perdiamo poi Ma dai Sì Mi piango Perché ci ho messo una vita A scrivere tutto Qua Kellherb 16 smeraldi Vai Pignati Ciucciati Intanto leggo la sua storia Allora Il dungeon è suddiviso in due parti Bosco davanti alla magione Con Bosse Un killer bunny Evocabile con una carota d'oro Ah un killer bunny Non killer Ma è un coniglio Già E come mostri ragni velenosi Dentro la magione No i killer bunny sono stronzi Sono veloci Dentro la magione Abbiamo streghe Vindicator Due diversi boss Questi qua però li facciamo un'altra volta Perché sono a livello maggiore Che sono Merlino e Wizard Consigli Non evocare in tambi i boss Contemporaneamente Ok Il coniglio ha poca vita Ma è molto veloce e aggressivo Usa la sua testa per comprare Ah vabbè chi se ne frega Quindi Capito? Eh sì va bene Non sarebbe un problema se non laggassimo Sì in effetti Sarà impossibile Ok Cosa dobbiamo fare? Che non ho aspettato E dobbiamo spawnare il killer bunny Qua cosa c'è però? Aspetta c'è una stanza qua Ah no questo è Wizard Ok ok Allora qua dentro c'è Aspetta 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 che c'è Gigio Prima ammazziamo Gigio Che è Gigio? Porca puttana Stammi distante Ok Dov'è? Ci spronto? La metto? Togliti La metto? Io sto in acqua Messa È dietro di te? Sì c'è una Come dietro di me? Dove è sfinito? È scomparso? Eccolo Bastardo Vaffanculo Arrivo eh Però ho ucciso sto ragno di merda L'hai già ucciso? È qua no È qua Che salta La pappa Perca di quella Vai che è in acqua Vai che è in acqua Vai che è in acqua Coniglio Io non lo riesco neanche a vedere È velocissimo Minchia Bravo L'hai ucciso Ma to Non potevi prendere qualche altra carota d'oro Così lo facevamo più volte Perché? Perché così ci prendiamo un po' di teste E che cazzo ce l'ha tante carote d'oro? Ce le abbiamo a casa Eh vabbè ma intanto volevo far vedere questo Ah beh certo Certamente Abbiamo sconfitto il borco di quello Il boss Borco di quello Che cazzo vuoi spider? Dai bene Ok dai Questo boss l'abbiamo fatto fuori Basta Cioè Kira Kira Dimmi Che cazzo vuoi fare di testa questo? Che cazzo fai? Mi dai la testa? Aspetta un attimo All'attacca Bravo Ok dicevamo Mi dai la testa? Che me la voglio mettere in testa Porca di quella Ma lasciali stare Ma cosa ti fanno? Mori Mori Mi dai la testa? Ma la voglio mettere Tento Porca di quella Io li odio sti ragni di merda Poi mi chiedi cosa ti fanno Non mi chiedi cosa ti fanno Ti stanno benissimo Ti sta benissimo Mi sembro il coniglio Quello assassino di Che cos'è il coniglio assassino? Quello con gli occhi rossi Se non mi ricordo di che film è Eh non lo so Eh però c'è un horror Dove c'è sto cazzo di coniglio Eh io non li guardo gli horror Ok dove va la testa? Jack the rabbit Dalle teste? E non me ne ricordo Qua qua Io me ne perdo sempre Allora dov'è il coniglio? Eccolo qua Jack the rabbit Però è carino Io lo voglio uno anche a casa No non rompere le palle Dovremmo farla a casa Una varia sezione Con tutte le teste Le riconfiggiamo tutti Sì Sì Succa Voglio concludere il video Che è troppo lungo Dai Concludiamo qui Yes Vai Bene ragazzi Per questo video è tutto Come al solito è durato un'eternità Ma perché abbiamo una marea Di cose da fare Spero comunque che vi sia piaciuto Vi ricordo di iscrivervi al canale E di non perdervi nessun video Se vi fosse piaciuto Lasciate un like E commentate Nel caso vogliate vedere Altri video simili sul nostro canale E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao